I 25 positivi di ieri sono stati una mera ed effimera illusione. I numeri di oggi ridestano preoccupazione e allarme, specie a Montella e Mirabella e Clano, dove ci sono 23 dei 53 nuovi contagiati. Il virus dalla media valle del calore inizia ad allargarsi e tocca anche Grotta Minarda con 5 casi. A Montella altri 9 infetti. Il sindaco Buonopane se la prende con i suoi concittadini, ancora troppi irresponsabili in paese. Oggi raccogliamo purtroppo questi frutti, tra virgolette. Mi dispace tantissimo che qualcuno non ha rispettato soprattutto le norme restrittive per i viaggi da e per l'estero. Le scuole erano state chiuse fino al 14. Lei pensa alla luce dei nuovi dati di prorogare l'ordinanza? No, per il momento no. Anzi, io avevo già programmato una riapertura, un'anticipazione a questo lunedì, però in attesa di questi tamponi i dati non ce lo permettono. Fino a qualche giorno fa erano tutti asintomatici. Nelle ultime ore purtroppo qualcuno inizia ad avere dei problemi, tanto che di sera si è dovuto ricorrere a due ricoveri ospedalieri per due casi positivi. Questo preoccupa ovviamente. A Mirabella con i 14 di oggi si è superata quota 70. Il sindaco Ruggero è estremamente preoccupato. Il focolaio e clanese si è sviluppato tra le scuole e un pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo che ha già ammietuto una vittima. E nel capoluogo il timore di una nuova chiusura è palpabile. Si temono gli effetti disastrosi di un altro lockdown. Purtroppo la paura c'è, però dobbiamo stare calmi, dobbiamo stare attenti. Speriamo di no, perché non sopporterei di stare a casa e di scendere soltanto il cane per 10 minuti e risalire sopra. Abbiate bondate.